Buongiorno e ben trovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di lunedì 1 luglio. Iniziamo quest'oggi dal gazzettino di Belluno che in prima pagina come primo titolo ha il seguente Cimabanche, un boato e il bosco va a fuoco, un ordigno bellico all'origine dell'incendio, task force per spegnerlo e poi ancora in prima pagina in bella evidenza lo dimettono e muore a casa. All'alba la visita all'ospedale San Martino di Belluno. Elvi Sandon, 63 anni, si è spento poco dopo per infarto davanti alla moglie. Andiamo avanti, questa notizia viene ripresa a pagina 3 del giornale si tratta appunto di Elvi Sandon di Pian del Monte deceduto ieri mattina dopo le 7 per infarto. Spirato tra le braccia della moglie che è disperata, chiedo che venga fatta chiarezza. Il medico gli aveva consigliato un antidolorifico e per la visita deve essere pagato anche il ticket, scrive il gazzettino. Alleanza in rosa per i lavoratori. Due imprenditrici hanno legato il commercio e l'industria offrendo benefit ai dipendenti per incoraggiarli a non fuggire. La ditta familiare di Chiara Lavanda, Dettaglio Alimentari e la Meccano Stampi con Laura Trevisson siglano l'accordo. assegni familiari da oggi gli sportelli Cisle. Pensionato va a lavorare nel bosco trovato senza vita vicino alla sua ape. La notizia viene da Arsie. La vittima è Ferdinando Facchinetti, 75enne di Col Perer, che è mancato otto mesi dopo la moglie. Andiamo ancora avanti, sempre sul gazzettino di Belluno. Rizzarda, opere stroncate. Chiusa ieri la mostra dell'artigianato di Feltre. Non assegnato il premio al fabbro Feltrino. In tre giorni 25.000 presenze in città. Il presidente Gesiot servono nuove leve. Grande guerra. Il nuovo totem a Feltre da ieri è realtà. Il punto informativo presentato dal sindaco. Aiuterà il turismo. Spesi 75.000 euro, 70% sborsati dalla regione. Scopel in futuro sarà potenziato con ulteriori note. Chiedo scusa, la notizia in questo caso non viene da Feltre ma da Seren del Grappa e quindi il riferimento al sindaco è il riferimento al sindaco di Seren del Grappa. Raduno Ana. Alpini da tutta la provincia ma la festa è ridotta dai lavori sul piazzale in quel di Sedico. Acquedotto più vicino. Il progetto corre spedito. In questo caso si tratta di una notizia che giunge da Cencenighe. L'opera fondamentale per il paese ora al vaglio della conferenza dei servizi. Scivola sul ghiaione, salva, raffica di soccorso in montagna nella giornata di ieri. Un boato, poi le fiamme nel bosco. A fuoco 5.000 metri quadrati in località Zuoghe a Cortina. Esplosi anche degli ordini bellici che erano presenti in zona. Operazioni di spegnimento molto complicate a causa del terreno minato. Sono durate fino a tarda sera. Eccidio di Cimavallona. Bolzano diserta la cerimonia. Sere da sfogliare. Ricomincia domani il ciclo di incontri. Leggere le sere. Letture di testi di premi Nobel nei cortili della città proposte ogni martedì pagando un biglietto d'ingresso di 2 euro a Belluno. Il museo MIM, quello della BM sulle migrazioni, sarà interattivo e aperto sul web. Il nuovo progetto permetterà di inserire materiale dal mondo, arricchendo così la proposta di questa offerta culturale di Belluno. La ex calce Sois rivive per un giorno. Un progetto punta a mantenere accesa la memoria del luogo. E poi inizia la parte sportiva del gazzettino di Belluno che, come ogni lunedì, è considerevole quanto a spazio. La prima notizia. Spartan Italia sul podio. Si tratta del campionato europeo dei guerrieri cosiddetti, di atleti protagonisti di prove particolari, di particolare durezza. La squadra azzurra, solo per un paio di secondi di distacco, deve accontentarsi del terzo posto. Vince la Slovacchia davanti alla Spagna. Tra le donne, prima la Francia, poi la Russia. Cala il sipario sull'evento che ha portato in Agordino circa 5.000 atleti dediti a queste specialità. E ci sono anche numerose foto che testimoniano la durezza delle prove. Dei percorsi, per esempio, fatti solo a braccia appendendosi a degli appigli. Ci sono poi tante cronache, di tante iniziative, di tante manifestazioni sportive. Torneo di Pets, in questo caso si tratta di calcio. Il bar Danino è mattatore. Poi, per il ciclismo, la Coppa Fawen va nelle mani di Longato. L'allievo vince in volata dopo aver staccato al secondo giro, dopo essersi staccato. Dal gruppo, con altri 5 atleti. Quindi la sua zampata finale. E passiamo dal gazzettino di Belluno al Corriere delle Alpi. In prima pagina, con grande evidenza, GD Consulting esultano i truffati. Adis Melayu patteggia due anni in Svizzera dopo la prescrizione dei reati in Italia. Sarà obbligato a restituire 8 milioni di euro. Prescritto in Italia, patteggia in Svizzera. Ultimo capitolo della mega truffa GD Consulting. La mente, Giampiero Adis Melayu, scrive il Corriere delle Alpi, è stato condannato a due anni di reclusione. Pena sospesa, ma subordinata al fatto che restituisca ai risparmiatori tutti i soldi già sotto sequestro. La cifra è sugli 8 milioni di euro. E le parti offese sono circa 300, molte delle quali bellunesi. Adis Melayu doveva rispondere dei reati di appropriazione in debita aggravata per 18 milioni di euro. E la fotonotizia del Corriere delle Alpi di oggi è dedicata all'incendio e alle esplosioni nel bosco sopra Cortina. Scrive il giornale. Due esplosioni e il fuoco brucia un bosco sopra Cortina in una zona irraggiungibile e piena di ordini inesplosi della Prima Guerra Mondiale. Le fiamme si sono sprigionate verso le 14.10 in località Zuoghe. Una zona 500 metri a monte del rifugio ospitale vicino a Cimabanche. Sono stati alcuni escursionisti che stanno transitando sul Col Rosà ad accorgersi dell'incendio e ad avvertire i vigili del fuoco. Andiamo avanti sul Corriere delle Alpi raggiungendo la parte che interessa la provincia di Belluno che si apre con la notizia che abbiamo già dato relativa alla GD Consulting. Andiamo ancora avanti nelle altre pagine. Esce dal pronto soccorso e muore a casa sua. Elvis Andon è deceduto per un arresto cardiaco ieri mattina dopo un accesso all'ospedale San Martino di Belluno. Indagano i carabinieri. C'è poi un articolo di approfondimento relativo all'incendio scoppiato ieri nel territorio di Cortina. Il recuperante pomerè, gli ordini bellici scoppiati per il caldo. Lago di Alleghe e Sentieri a Gordini tornano a splendere grazie agli alpini. Tra Alleghe, Rocca e Livina Longo in azione più di mille penne nere realizzate i lavori per un valore di un milione di euro. In arrivo altri 19.000 volontari. Siamo una eccellenza italiana. Quella che il Corriere delle Alpi definisce anche macchina della solidarietà. La desolazione del parco di Lambioi a Belluno. E quella rinascita attesa dai bellunesi. Dal luogo di aggregazione e relax a simbolo della tempesta avaia. L'area dovrà essere riprogettata per evitare nuovi disastri. Lavori da due milioni lungo il piave. Il genio ripristina scogliere e argini. Il riferimento è sempre agli interventi nella zona di Lambioi a Belluno. Coda chilometrica di auto e camper. Alemagna e A27 in tilt ieri per il rientro dalla montagna. Intesati la statale e il tratto fa d'alto Vittorio Veneto Sud. Allarme temporali in provincia per la giornata odierna. E per quanto riguarda la cerimonia che ha ricordato l'eccidio di Cima Vallona, l'onorevole De Carlo, dopo 52 anni chiediamo giustizia. Bolzano ancora assente. Ed eccoci alla pagina di Feltre. Nessun vincitore per il premio Rizzarta. Poca originalità, opere non all'altezza. Colpo di scena la cerimonia di chiusura della Kermes. Il presidente uscente Gesiot porge il testimone alla vice ceccato. E andiamo ancora avanti. Affoga nel piave sotto gli occhi degli amici. Tragedia ieri tra Vass e Segusino. La vittima è un ambulante di 25 anni. Fatale una congestione. Inutili i soccorsi. Inaugurato l'info point al rifugio Bocchette per valorizzare il grappa. Si tratta di una notizia che viene dal comune di Seren del Grappa. Procediamo ancora nel guardare le pagine del Corriere delle Alpi. Torna la musica degli organi storici delle Dolomiti. Il via a Domenge. Si parte il 14 luglio. Previsti 26 concerti. Oltre a 4 appuntamenti speciali. E poi inizia anche sul Corriere delle Alpi. La nutrita sezione sportiva che caratterizza il giornale il lunedì. Si comincia col ciclismo in questo caso. Longato taglia il traguardo della storia. Daniel Vettoretto è campione provinciale. Sessantesimo appuntamento con la manifestazione dell'U.C. Foen-Nictu. 68 partenti. Solamente 32 quelli arrivati. E sempre per il ciclismo Nicola Cassol il migliore degli atleti bellunesi alla Gran Fondo Pinarello. Il gruppo sportivo Fonzasio in trionfo con Bataim. Per lui è la quarta vittoria stagionale. Il Fettrino, sempre per quanto riguarda il ciclismo, vince tra gli esordienti a Foen. Nella gara l'affermazione di Thomas Capra. C'è poi una parte riservata allo sport a livello nazionale e quindi per la corsa in montagna la Varedo Ultra Trail numeri sempre più da incorniciare. La Quattro Giorni Ampezzana ha visto il via oltre 4.500 atleti nelle varie gare. Il Gran Caldo l'ha fatta da padrone, alzando la percentuale dei ritiri e dei malori. Trofeo delle province di atletica leggera, Belluno al settimo posto. Due le vittorie individuali, Defanti nei mille metri e Balès nella marcia. Sul podio anche Sofia Furlan, terza, nei 60 piani. Ana Feltre piglia tutto a Lamont. Titolo tricolore tra i soci e gli aggregati. In gara quasi 500 atleti in rappresentanza di 36 nazioni da tutta Italia. Ottima la organizzazione. Si trattava di corsa in montagna a staffetta per il campionato italiano alpini. Spartan Race, una grande giornata per Giulia Piol ai piani di Pezzè di Alleghe. L'atleta bellunese prima nella Age Group 18-24. Mi sono appassionata a queste gare guardando un video su Facebook. E poi ci sono le cronache delle partite del campionato a Gordino di calcio. Ma con questa notizia noi concludiamo la nostra rassegna stampa augurando a tutti voi una buona giornata e dandovi appuntamento a domani.